La Banca di Credito Cooperativo del Valdarno Fiorentino investe in tecnologia per agevolare i soci e i clienti. Club Soci BCC è una app per smartphone innovativa che nasce per mettere al centro il socio, sia l'impresa che il consumatore. La banca si fa carico dei costi di struttura e gestione ed ogni impresa socia della banca, ad esempio esercizi commerciali, bar, ristoranti, alberghi, imprese di servizi, agricole e artigiane, possono avere una loro vetrina di promozione della loro offerta direttamente in tasca dei consumatori attraverso l'applicazione, scaricabile gratuitamente da Apple Store o da Google Play. Il consumatore può ricercare le attività convenzionate ma attraverso un sistema di georeferenziazione l'app segnalerà la prossimità e la distanza di ogni singolo esercizio. Grazie all'investimento che la banca ha fatto, a fondo perduto su questo investimento tecnologico, i nostri soci consumatori potranno avere la possibilità di essere indirizzati, anche georeferenziati verso esercizi commerciali, a sua volta caratterizzati da essere soci della banca, che offriranno loro, attraverso questa vetrina virtuale, quando andranno nei loro negozi, uno sconto particolare e la possibilità loro di sviluppare il fatturato e i nostri soci consumatori di avere un risparmio in termini di sconti o di trattamenti particolari. L'idea dell'app Club Soci BCC si inserisce sulla scia dell'investimento in tecnologia smart al servizio del consumatore, come anche l'iniziativa del gruppo bancario E-Crea con il lancio dell'app Satispay. Un altro tipo di applicazione che è scaricabile già da ora e consiglio a tutti di prenderne visione è l'applicazione Satispay, con cui noi siamo in grado di offrire ai nostri correntisti la possibilità di scambiarsi piccoli flussi di denaro e fare i pagamenti e anche i micropagamenti nei piccoli esercizi commerciali a costo zero tramite la rubrica del telefonino, tramite questa applicazione che si chiama Satispay. Questo vuole essere l'investimento in tecnologia perché oggi la tecnologia fa parte della nostra vita. E va vista in chiave positiva, cioè avere maggior produttività, avere una vita più facile senza dimenticarsi che però la nostra vita reale è fatta di relazioni e di guardarsi in faccia, non solo guardando nel video di un telefonino.